Siamo contoterzisti di Ancaster, Lincolnshire e ci occupiamo di spandimento. Spandiamo circa 20.000 ettari di biosolidi ogni anno. Forniamo e spandiamo fertilizzanti a base di cenere e terreno. Come contoterzisti, spandiamo biosolidi e tutti i tipi di letane. Abbiamo utilizzato il 7R in questa stagione e ne abbiamo apprezzato molto alcuni aspetti. Innanzitutto la tecnologia, il poter vedere dove si trovano i trattori, il consumo di carburante, le tonnellate scaricate dalle macchine e il tempo impiegato per svolgere il lavoro. Il comfort del 7R è essenziale per noi. Il riscontro ricevuto dai nostri collaboratori stagionali è eccellente, dalle dimensioni della cabina alla comodità del sedile, soprattutto le funzioni di massaggio e di riscaldamento per le mattine più fredde, l'integrazione degli spanditori nel joystick Command Pro ed il liso bus negli schermi del trattore. Tutto davvero molto pratico. Il vantaggio che il 7R apporta alla nostra attività è il risparmio di carburante. Rispetto agli anni precedenti, abbiamo risparmiato circa il 20-30% sul carburante, quindi consumiamo dai 28 ai 30 litri all'ora per il trasporto e il lavoro. La prova del 7R con il nuovo sterzo reattivo ci ha permesso di apprezzare alcune caratteristiche. Per esempio, lo sterzo è molto meno nervoso e molto più fluido. Per me è davvero utile avere una migliore stabilità su strada e ancor più nei campi. Quando lavoriamo, mantiene le ruote ben dritte. Nelle svolte a fine campo, tra gli angoli e i fine campo, l'intervento sullo sterzo è decisamente minore e più fluido. Con il nuovo cilindro dello sterzo più grande, abbiamo riscontrato che aggiungendo zavorre maggiori sulla parte anteriore, lo sterzo diventa molto più fluido in uscita dagli incroci e svoltando a fine campo a velocità minori. Molto più fluido e molto più semplice. Il supporto del concessionario è molto importante per noi come azienda. Lavoriamo un'area di circa 50.000 km2. In questa stagione, il 7R è stato davvero affidabile. Abbiamo avuto un piccolo inconveniente. È bastata una chiamata veloce al nostro concessionario John Deere Farrell, che ha diagnosticato un sensore senza recarsi sul posto. Ha portato il sensore e ci ha permesso di tornare operativi il giorno stesso. Senza alcun dubbio, consigliamo il 7R a tutti e a tutte le altre attività, semplicemente per le sue prestazioni in questa stagione, che sono state davvero eccezionali per noi. Grazie a tutti.